boh dimmi la verità come hai visto oggi la juve? guardami in faccia quando ti parlo come hai visto oggi la juve? oh rispondi oh te ne vai tu o ti caccio io? e vedi dei coglioni voi come avete visto la juve? io l'ho vista sonnecchiosa quasi svogliata oddio c'è da dire che ultimamente lo stadio non aiuta cioè praticamente su 90 minuti 70-80 sono stati in silenzio io non capisco la filosofia dei gruppi organizzati ma e non ci tengo a capirla non me ne frega niente io concepisco lo sport per carità rispetto le loro scelte ma io sono sempre dell'opinione che quando una cosa non ti piace resta a casa e non rompere il cazzo vabbè chiusa parentesi oggi la juve mi è piaciuta a tratti a tratti più che altro mi sono piaciuti i singoli a tratti poi all'ultimo vinciamo col solito 2-1 dal cazzo vinciamo questa partita soffrendo contro un Parma senza inglese Gervinio di positivo c'è solo che allunghiamo sull'Inter solo quello prestazione della Juventus di squadra non mi è molto piaciuta poche idee specialmente nel primo tempo poche idee troviamo un gol sulla deviazione di Cristiano il po' che si è giocato meglio è quando sono stati in campo i tre e calo mister Sarri non possiamo giocare senza centravanti ma come io non so più come dirtelo Iguain deve giocare sempre Iguain deve giocare sempre poi nel finale sostituire Cristiano ogni tanto anche perché mercoledì abbiamo la Roma in Coppa Italia non è non è l'esa maestà io penso che Cristiano capirebbe so che lui vorrebbe giocare sempre ma l'hai fatto col Milan in un momento in un momento in cui effettivamente Cristiano non girava parli ci dici senti io nel secondo tempo ti tolgo se la partita si mette in un determinato modo e ti faccio riposare perché mercoledì abbiamo la Roma in Coppa Italia che non è affatto una partita facile sia chiaro vabbè cosa devo dire partiamo nel giudicare i singoli Scesni poco impegnato anche se all'ultimo mi ha fatto tirare quattro bestemmie perché all'ultimo calcio d'angolo che poi c'è stato il fallo di Jacoponi mi ha fatto tirare le solite quattro bestemmie perché non chiama la palla non chiama la palla perché se tu chiami la palla Bonucci non salta non vi confondete la palla non va meno male che quello ha fatto fallo di mano e vabbè vabbè parliamo della difesa Bonucci sicuro come sempre De Ligt ha fatto il suo oddio nulla di indimenticabile però dai effettivamente sul centro-destra della difesa è sempre a trovarsi un po' meglio sì io non mi faccio condizionare dei telecronisti di Sky che dicono De Ligt grandi uso così no De Ligt ha fatto una partita normalissima una partita da 6-6 e mezzo non di più non ha fatto danni e questo è già molto e questo è già molto diciamo l'unico mezzerrore che ha fatto quando su un rilancio con la squadra un po' sbilanciata ha fatto partire ha innescato un contropiede nel Parma rilanciando alla Cica ecco questo ragazzo delle volte va in panico delle volte lui deve essere più razionale perché di solito gli olandesi sono razionali lui più giovane è stato capitano dell'Ajax delle volte perché le qualità il ragazzo ce l'ha e comincio a vedere buone giocate buoni disimpegni lui che imposta le qualità il ragazzo ce l'ha deve giocare con meno paura poi a centrocampo chi mi è piaciuto oggi mi è piaciuto Rabiot raga qui non sono ancora d'accordo con i tifosi che è un'azione che secondo a loro dire avrebbe un po' rallentato sono cominciati i mugugni no io non sono d'accordo manco per niente oggi Rabiot ha fatto una signora partita Rabiot oggi ha fatto una signora partita bello sicuro non ha perso una palla e già questo è molto non ha perso un pallone Mugura Rabiot ha saputo impostare ha fatto belle cose a centrocampo a me Rabiot oggi è piaciuto Matuidi il solito casino Matuidi mette paura a compagni avversari Matuidi recupera palla perché lui va tutto ansioso scordinato e mette paura a chi gli è di fronte ma mette paura anche ai propri compagni perché sbaglia stop si imbroglia fa dice io non lo so come devo fare con questo dicono sia determinante per la Juventus non è stato forse il primo anno che è venuto ma ultimamente non lo so sbarella ogni tanto ma boh Pjanic eh ha fatto una buona partita la sufficienza la prende Cristiano vabbè decisivo due gol Paolino ha giocato bene ha giocato molto bene oggi Paolino il vero leader tecnico della Juventus nonostante Cristiano segni sempre ma ragazzi guardate come sta giocando Di Bala Di Bala sta facendo una stagione strepitosa forse la migliore da quando è la Juventus lotta rientra gioca ha fatto un disimpegno in difesa sulla fascia destra ragazzi è un qualcosa comunque non ho appunti sul loro gol secondo me se proprio devo trovare il pelo nell'uovo il solito quadrado che raga quadrado non è un marcatore lo sapete benissimo non è manco colpa sua quadrado non è un marcatore non sa marcare specialmente se un barcantonio come Cornelius raga che per me Cornelius ha fatto un gran gol io non do manco la colpa a chi si è fatto anticipare raga questo ha fatto un gran gol l'errore all'inizio di quadrado che si lascia sfuggire l'uomo non fa il blocco e questo prende velocità è molto alto va di testa e fa gol ma secondo me io do 80% di bravura Cornelius e 20% l'errore di quadrado nulla di che ma siamo sempre là quadrado non è un marcatore e voglio a schierarlo laterale basso quadrado non è un marcatore avete mai visto Roberto Carlos o Daniel Alves marcare in aria li avete mai visti io non li ho mai visti ecco quadrado è un giocatore come questo qua chi mi è piaciuto molto è molto è Danilo raga Danilo ha giocato in una fascia non sua ha fatto una signora partita quando è andrato ha fatto una signora partita Danilo senza infania senza lote ma non ha sbagliato nulla anzi ha sfiorato anche il gol raga secondo me questo Danilo potrebbe esserci molto 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 utile è il classico giocatore oscuro però dai quel che non mi è piaciuto è questa indolenza delle volte nelle quali sembra accadere la Juventus che non riesce a trovare continuità di gioco non riesce a trovare continuità di gioco ma ma io non me la piglio neanche con Sarri raga io ho sempre detto sin da quando hanno preso Sarri un conto un conto è gridare nelle orecchie a Insignia Mertes a Caglieon Amsic Zielinski Mario Rui gente che prima di andare a Napoli c'è chi giocava nell'Empoli chi nel Pescara chi nel chi non so dove chi nel Brescia vedi Amsic chi nell'Udinese vedi Allan un conto è essere un martello con questi giocatori un conto è essere un martello con chi ha vinto tanto e l'abbiamo già visto al Chelsea che Sarri si ha vinto ma non è che venisse seguito nelle sue idee di gioco e la stessa cosa sta accadendo quest'anno per carità di Dio il mio augurio che finisca come l'anno scorso che vince in Europa e secondo me questo può essere l'anno buono perché non lo so vedo che lui non ha un gran rapporto con i giocatori e in genere quando ci sono queste situazioni si portano a casa le coppe un esempio faccio un esempio il Napoli di Ottavio Bianchi il Napoli che vinse la Coppa UEFA Bianchi erodiato da tutto lo spogliatoio Maradona in primis eppure quell'anno il Napoli vince la Coppa UEFA non lo so non lo so lo stesso Sacchi lo stesso Capello non è che fosse proprio amato nello spogliatoio è da chi veniva allenato però dai torna nella partita di oggi ribadisco la partita un po' sonnecchiosa e faccio appello a chi va allo stadium raga se ci dovete andare quello stadio deve essere una bolgia Conte vi avrebbe già mandati a fanculo perché me lo ricordo Conte il primo anno Conte ve ne avrebbe già detti di tutti i colori avrebbe fatto bene raga capisco che oramai ci siamo fatti la bocca buona capisco che oramai ogni anno noi vogliamo ammazzare il campionato a gennaio ma ragazzi datevi una regolata o andate a tifare la squadra oppure restate a casa non me ne frega niente la storia del cavo biglietti raga se a me una cosa non piace non mi garba io non me ne resto a casa resto a casa o se andate allo stadio o tifate o state a casa e non rompete i coglioni punto iscrivetevi al canale pollice in su e ciao ciao